scusatemi lo stavo leggendo un piccolo paragrafo sul blues bentornati e benvenuti qui al bm blues io sono paolino e oggi non ho niente da recensire per un semplice motivo prima però che vi spiego il motivo come al solito vi chiedo di iscrivervi al canale mettere un bel like e la campanellina mi raccomando ma ora vi svelo un attimino perché oggi non c'è nessuno strumento da recensire oggi parliamo della fiera di padova il guitar show che si terrà sabato e domenica questo che sta per venire quindi il 18 e il 19 di maggio e io come l'anno scorso ci ritorno ma questa volta non ci vado da solo o perlomeno con me c'è sempre monica anche l'anno scorso e anche quest'anno ci sarà con me monica ma ci sarà un grande musicista che andrò a prenderlo all'aeroporto e faremo tutto il sabato insieme è un veramente un musicista fenomenale quale io vado fiero di esserne amico e passeremo tutto il giorno sabato praticamente in fiera insieme poi staremo tutto il giorno insieme faremo magari qualche video qualche diretta insomma e come l'anno scorso qui vi metto il link per andarla a vedere farò qualche video di alcune chitarre di qualche novità che ci sarà sicuramente al guitar show dicono che ci sono 50 stand in più dell'anno scorso quindi ci sarà veramente tanto da vedere tante persone da salutare tanti youtuber che sono là ci siamo già sentiti messaggiati quindi ci troveremo là insomma sarà anche una bella festa per noi per incontrarci rivederci dopo tanto tempo se qualcuno di voi sarà al guitar show sabato e vuole fare due chiacchiere con me o col personaggio che sarà con me che non ve lo dico chi è lo capirete poi se venite in fiera o lo vedrete poi nei video in diretta qui in descrizione vi metto il link di telegram del bm blues in maniera tale che se siete in giro e non ci trovate non ci vedete mi messaggiate e facciamo in modo di trovarci e bere un caffè insieme e fare due chiacchiere il nostro scopo chiaramente è visitare padiglione per padiglione andare a rompere le scatole un po ai venditori andare a capire che cosa ci propongono di tarli qui al bm blues per farvele vedere magari non troviamo niente ma magari troviamo qualcosa di sfizioso bene qui concludo la puntata di oggi non vi rubo altro tempo vi aspetto al guitar show oppure ci vediamo sempre qui al bm blues tutti i giovedì alle 13 amici lunga vita al blues buon pomeriggio buon pomeriggio